Buongiorno, un buon lunedì cari amici di Filo Diretto. Oggi parliamo di un argomento che è affascinante. Abbiamo iniziato a sentirne parlare sicuramente subito dopo il Covid, sebbene sia un argomento che arriva molto più da lontano. Si chiama tecnicamente One Health, ossia una salute. Cercheremo di capire meglio con il professor Renato Balduzzi che è venuto nuovamente a trovarci, lo saluto. Buongiorno a tutti. Buongiorno a lei, io la presento tutte le volte anche se non è più il caso, però per chi fosse nuovo all'ascolto, costituzionalista alla Cattolica di Milano, ex ministro alla salute. Allora, è vero che di questo metodo One Health, che è poi un interconnessione tra la salute dell'essere umano e quindi dell'uomo, quella animale e quella ambientale, viene messa un po' in correlazione. Sì, è qualcosa che è una consapevolezza che abbiamo da un po' di anni. Quelli che hanno studiato queste cose dicono che a livello internazionale questo concetto di una sola salute si è consolidato vent'anni fa, nel 2004. Però ciò che lo ha veramente reso alla portata di tutti o di quasi tutti è la vicenda della pandemia. Esatto. Perché lì abbiamo capito meglio, ecco, questi nessi ovviamente, no? Attenzione alla salute animale, attenzione alla salute ambientale, significa attenzione alla salute umana. Nei rapporti salute ambientale e salute umana c'era già questa consapevolezza. Anche noi abbiamo avuto, no? Da Seveso all'Ilva, no? Abbiamo avuto dei fatti clamorosi. Tra salute umana e salute animale abbiamo avuto bisogno di sbattere contro la vicenda della pandemia, ecco. Quindi questo è qualche cosa che ci ha probabilmente sensibilizzati. Adesso bisogna, oltre a essere sensibilizzati, prendere atto delle conseguenze di tutto questo. Quindi di ciò che ciascuno e ciascuna persona può fare, se è la sua famiglia, il contesto dove vive, per assicurare alle future generazioni un assetto almeno non peggiore di quello attuale. Questo è il vero problema, ecco. Alle future generazioni, tra l'altro ce l'abbiamo ormai iscritto anche nella nostra Costituzione, perché due anni fa la Costituzione italiana è stata modificata praticamente all'unanimità da parte del Parlamento, inserendo l'interesse delle future generazioni dentro uno dei primi articoli, l'articolo 9, tutela l'ambiente, gli ecosistemi, le biodiversità anche nell'interesse delle future generazioni. Questa è qualche cosa che a molti sfugge ancora adesso, perché noi siamo dentro una cultura del presente e di me, non del noi e non del futuro. Allora ribadire questo è importante e anche capire, lo faremo proprio ad Alessandria nell'annuale convegno di diritto sanitario che si svolgerà la prossima settimana, che cosa hanno fatto le Corti Supreme in dirlo per il mondo su questo tema, visto che sono vent'anni ormai che la nozione di una sola salute è una nozione consolidata. Questo cosa vuol dire? Che abbiamo a livello di giudici, quindi a livello di chi deve decidere le controversie, le liti, le liti che riguardano il bilanciamento tra l'ambiente è la salute, il bilanciamento tra la tutela degli animali e quella degli uomini, insomma che cosa hanno detto le Corti Supreme? Questa è la prima volta che a livello credo internazionale abbiamo provato a vedere, ma dovrebbe essere proprio la prima volta che c'è un tema Corti Supreme e One Health. Che cosa è stato detto? Quali sono le prospettive? Perché andando a vedere la risposta alle liti, la risposta dei giudici alle liti, noi possiamo meglio capire qual è la strada e quali sono le strade e le direzioni da prendere. Che ne va della vita nostra, dei nostri figli, dei nostri nipoti, delle generazioni future, della qualità della nostra vita di tutti i giorni. So che siamo preoccupati da tante cose, ormai c'è questa cappa della guerra che ci sta sovrastando, è chiaro che rispetto alle scenari di una guerra nucleare, questi temi importantissimi finiscono per essere necessariamente meno oggetto di attenzione, però c'è un intreccio tra queste cose evidentemente notevole. Ecco, basti pensare a che cosa sta succedendo in quei territori dove come se fossero caramelle si buttano giù bombe convenzionali, come si suol dire, perché non pensiamo cosa possa significare una bomba nucleare, cioè per quanti decenni, per quanti secoli forse, laddove c'è una guerra pesante come quella che i russi hanno avviato contro l'Ucraina, cosa sarà dell'ambiente, cosa sarà della salute umana. Pensiamo ancora adesso si trovano nel nostro territorio ogni tanto bombe inesplose che fanno vittime, pensiamo all'enorme impatto che questi bombardamenti hanno su un territorio come può essere quello dell'Ucraina, è qualche cosa di agghiacciante. Ecco, anche di inimmaginabile a oggi, assolutamente. Immaginabile con l'orologio della storia che sembra tornato indietro, un film che si riavvolge indietro, tutto quanto, noi eravamo davvero convinti di essere riusciti a creare delle condizioni di, certo era una pace nella deterrenza, era una pace che lasciava aperti i focolai di guerra in giro per il mondo, però comunque almeno sul continente europeo eravamo riusciti ad assicurare appunto un inedito, un inedito perché mai c'erano stati tanti decenni così senza una guerra in Europa e adesso torna tutto indietro. Esatto. Allora, tornando al concetto di One Health, tanto per, come dire, spiegare bene alle persone che questo tipo di metodologia che da certi versi può essere considerata nuova, allora per quanto riguarda l'ambiente abbiamo appunto sentito e lo capiamo perfettamente perché insomma, parlando anche delle ripercussioni nell'ambiente di queste guerre, di queste munizioni che vengono diffuse poi nell'aria. Un altro dato molto importante che ho letto è che ad esempio il 75% di certe patologie sono di origine animale, quindi quando noi parliamo magari della mosca alzezè oppure di certi insetti che possono provocarci delle infezioni o comunque delle malattie, ecco il 75% è altissimo? Sì, assolutamente, ma soprattutto è qualche cosa di cui non siamo consapevoli. Esatto. E questo è il vero problema, quindi la nostra inconsapevolezza determina poi comportamenti irriflessivi, comportamenti disinvolti, una mancata attenzione nella vita di tutti i giorni, ecco a partire dalle scelte minime di ciascuno, ecco. Poi è chiaro che ci sono decisioni che devono essere prese a livello complessivo, no? Il cambiamento climatico è qualche cosa che è contrastabile certamente nella mia vita individuale ma che necessita di scelte complessive, no? Se voglio arrivare entro il 2050 a non avere un peggioramento, no? Del riscaldamento del pianeta, devo fare delle scelte oggi che non possono essere solo le scelte di Renato Balduzzi, di Chetty Porceddo, del singolo telespettatore o telespettatrice, devono essere scelte fatte dagli Stati e non basta le scelte del singolo Stato ma devono essere scelte della comunità internazionale perché evidentemente se c'è un inquinamento nello Stato vicino non è che l'inquinamento segue i confini, pensiamo alle prospettive di nuove pandemie, sappiamo che ci saranno, non dobbiamo evidentemente avere toni apocalittici, sappiamo che ci saranno, abbiamo maturato qualche esperienza, non è vero che dall'esperienza della pandemia non abbiamo imparato nulla, se non altro abbiamo imparato che cos'è una pandemia. E che è già una cosa. Però è chiaro che dovremmo riuscire a prevenire, a prevedere cosa che non è stato durante la pandemia del Covid-19, siamo rimasti nella generalità presi alla sprovvista. E adesso non possiamo più addurre, non sapevamo, adesso sappiamo, allora si tratta di cominciare a adottare quei comportamenti nella vita di tutti i giorni che aiutino a non peggiorare la situazione e che permettano, ove arrivi una nuova ondata virale, di avere comportamenti complessivamente più ragionevoli. Ma è chiaro che tutto questo ha bisogno evidentemente anche della politica, perché sono le scelte fatte nell'interesse di tutti che poi possono aiutare le singole scelte individuali che faccio a casa mia a non essere in contraddizione con le scelte fatte da tutti. Quindi questo è qualche cosa che occorre cominciare a parlarne perché in questo modo si può avviare un cammino nella direzione giusta. Devo dire che i più giovani sono davanti a noi su questi temi, sono assolutamente davanti a noi su questi temi. sono molto più attenti, sono molto più sensibilizzati. Noi, parlo della generazione mia e non della sua, dottoressa lei è giovane, ma noi siamo stati i figli di una generazione un po' disinvolta da questo punto di vista. Era necessario ricostruire, c'erano urgenze che sembravano più impellenti. C'era anche più ignoranza proprio nel senso letterario del termine. E certo, ma guardiamo soltanto un aspetto se volete o se vogliamo marginale, l'urbanistica degli anni sessanta. Esatto. Pochissimo attenta a tutto, non solo al bello ma al sostenibile, ai materiali che favoriscano il dispendio di troppa energia. Cioè era l'urbanistica di chi comunque veniva da tanto tempo di sofferenza e voleva avere tutte subito in qualche modo. Per carità è un'urbanistica che ha permesso a molti di avere una casa, attenzione, bisogna essere sempre con i piedi per terra. Però adesso ci rendiamo conto, anche solo guardando la bruttezza di certi quartieri, di certe realtà costruite negli anni sessanta, quando c'era meno consapevolezza che accanto all'aspetto estetico c'era anche un problema di non sostenibilità ambientale. Adesso siamo tutti più, fotovoltaico è qualcosa che è entrato nel, se non nelle case di tutti, almeno è entrato nella cultura di tutti. La raccolta differenziata, la prima volta che si parlò di raccolta differenziata in molte città italiane ci fu una levata di scudi. Le amministrazioni in carica vennero ribaltate da parte di chi diceva ma no tutte storie che c'entra continuiamo a fare come abbiamo sempre fatto. Sono preoccupazioni di elite, un bel niente, sono preoccupazioni di tutti quanti, non di elite. Però è vero che se non hai un pezzo di pane, cioè se non hai la garanzia di avere una vita vivibile, è più difficile che tu possa occuparti di come vanno le cose nell'ambiente o nella salute degli animali o anche solo nella salute tua o degli altri, perché hai bisogno di mangiare. Allora professore, come sempre facciamo una piccola pausa con oggi Alessandra Dellacca, con le anticipazioni del telegiornale delle 12.30 e poi torneremo nuovamente a parlare con il professor Renato Balduzzi di questo affascinante argomento. A te Alessandra. Seconda parte di Filo Diretto, siamo in compagnia del professor Renato Balduzzi, stiamo parlando di One Health, questo nuovo metodo che praticamente interconnette l'ambiente, gli animali e l'uomo e come dire, in questo cerchio virtuoso li mette tutte e tre insieme per quanto riguarda la salute. Allora, è così no? E' così, la nozione base è proprio questa, cioè se ho un problema di salute devo sapere che l'organizzazione sanitaria incide per il 20% sulla possibilità di rispondere e contrastare questo problema. L'80% è fatto da dove vivo, l'ambiente in cui vivo, il contesto, il modo con cui appunto salute ambientale, salute animale, salute umana stanno insieme, le possibilità economiche, cioè abbiamo ormai la certezza che dove c'è meno istruzione, meno reddito e dunque meno cultura c'è anche più difficoltà di tutelare la salute. Insomma tutto questo adesso lo sappiamo, lo sappiamo meglio di prima e forse è il caso di rimboccarci le maniche e di dare qualche risposta. Ecco, prima di farle una domanda concreta, sicuramente molto ha influito anche in questo tipo di studi il fatto che oramai con le frontiere aperte c'è anche un passaggio di culture, culture, culture ambientali soprattutto, che si interconnettono senza poi nessun controllo di massima, no? O comunque pochi controlli? Beh, dal punto di vista epidemiologico l'aspetto più significativo è quello della possibilità di avere appunto a proposito di animali che sono vettori di malattie, di avere da noi malattie che un tempo si pensavano circoscritte ad alcuni paesi tropicali e che adesso evidentemente con le comunicazioni, con l'enorme aumento dei viaggi aerei, dei viaggi in genere, degli scambi che sono fattori evidentemente anche positivi nella interdipendenza globale, ci portano a dover fare i conti con malattie di cui non avevamo più contezza oppure con nuove malattie, tutto il fronte evidentemente che accennavamo già prima, delle future possibili pandemie, ecco tutto questo, ma alla base c'è proprio ecco la cosa più concreta probabilmente è proprio quella di acquisire la consapevolezza del problema. Sono assolutamente d'accordo. Ecco la domanda che volevo fare, concretamente come si interconnettono questi tre fattori e qual è l'approccio medico a questo tipo di metodo? Beh l'approccio medico è bene chiederlo a un medico. No, vabbè però. No, no, ciascuno deve fare un po' come si è. Io posso dire come questi tre mondi, la salute to cure che è la salute di ciascuno di noi, ecco è uno stato tanti anni fa l'Organizzazione Mondiale della Sanità aveva provato una definizione che poi è stata via via migliorata, un completo stato di benessere fisico, psichico e sociale. In realtà in questa definizione, che è del 46, attenzione, quindi 80 anni fa, in questa definizione c'è già tutto. Esatto. Perché ci aiuta a capire, ad esempio una delle emergenze che abbiamo oggi, le questioni della salute mentale, noi le abbiamo rimosse, le questioni della salute mentale erano i matti, no, no, la salute mentale è una delle facce della salute. Ed è una piaga sociale. Ed è una piaga sociale che ha avuto in questi anni un enorme aumento legato in parte alla pandemia, ma in parte anche al modo con cui si vive, cioè scopriremo che un eccesso di confidenza con questi strumenti ha poi delle ricadute, lo scopriremo fra un po' di anni, perché adesso non abbiamo ancora i dati per poter dire, ma lo intuiamo, no? Ecco, allora salute mentale, ma poi il benessere sociale, cioè nella vita collettiva, e questo è il modo con cui si tengono insieme, prima Alessandro Della Cà diceva, nel prossimo notiziario si parlerà anche di giornata contro le infortuni del lavoro, un tavolo permanente, amianto e mesotelioma. Cosa c'è di più espressivo per noi, di questa provincia, del legame tra salute ambientale e salute umana? Certo che ci sono dei fattori naturali che creano problemi, no? Appunto l'amianto non è qualcosa che tu produci, è qualcosa che c'è in natura. Noi adesso sappiamo però che non va utilizzato, se non in un certo modo, non va utilizzata questa straordinaria capacità delle fibre di amianto di resistere nel tempo, ricordiamo Eternit, cosa c'è di meglio? La metti lì, non la tocchi più, non devi fare manutenzione, grazie. Il risultato è che ancora fino a 50 anni fa, noi portavamo, 40 anni fa probabilmente, portavamo le scuole a vedere lo stabilimento Eternit. Altro che. Vuol dire che non c'era consapevolezza, o non c'era sufficiente consapevolezza. Chi era consapevole o stava zitto oppure veniva emarginato. Questo è un esempio che noi abbiamo vissuto nella provincia di Alessandria sulla nostra pelle. Chi non conosce qualcuno che si è ammalato di mesotelioma ed è morto di mesotelioma, che è una patologia molto circoscritta e che dipende essenzialmente dall'avere inalato fibre, non solo di amianto, ma anche altre sostanze che provocano il mesotelioma. Ma appunto, se io non so questa cosa o faccio finta che non ci sia, poi le conseguenze, dice ma non si trova la cura contro il mesotelioma, non si trova ancora la cura, è chiaro che bisogna fare ogni sforzo in quella direzione, un po' tutti abbiamo dato un aiuto nel tempo a seconda delle responsabilità di ciascuno, ma l'aiuto migliore è quello di essere consapevoli che le due cose si tengono insieme. E quindi io, se ho un ambiente il più possibile salubre, avrò anche una migliore salute. Questa cosa, perché capirla solo dopo un dramma? Potremmo capirla prima, ecco, questo è un po' il senso profondo di questa insistenza che c'è oggi sulla nozione di One Health, di questa una sola salute. Teniamo conto che siamo sulla stessa barca, come disse Papa Francesco per quanto riguardava la pandemia. Siamo sulla stessa barca, certo che in questa barca l'uomo ha una dimensione importante, ma l'antroprocentrismo non può essere esclusivo. Io devo tenere presente la salute dell'ambiente, la salute animale, se no non tengo presente la mia. Andiamo a vivere tutti in cima a una montagna. Grazie al professor Renato Balduzzi, lo incontreremo il prossimo mese, alla linea alle notizie, con filo di ratti ci vediamo domani alle 12. Buon pomeriggio. Grazie.